La mozione riguarda che noi riteniamo che comunque debba essere tenuta in considerazione la maggioranza di ogni singolo paese. Quindi vale a dire se su Biano ci sarà un 50% più uno del no o viceversa del sì, chiaramente rispettando la volontà dei cittadini noi vorremmo, credo per una questione anche democratica, che fosse rispettata. Questo è quello che poi è venuto fuori dal Consiglio Comunale. Tra l'altro abbiamo votato tutti favorevolmente all'unanimità, quindi insomma dei presenti. Quello che chiedete è che non venga tenuta a conto della somma totale dei voti favorevoli o contrari per quanto riguarda entrambi i comuni. Sì esatto, anche perché in altri comuni del Casentino si propone un meccanismo di questo tipo, quindi perché ha chiusito la Verna in un modo e a su Biano in un altro. E comunque io credo che per una democrazia ogni paese debba decidere il suo futuro, non che lo decidano gli altri. Questi altri è raffigurato nella regione, nella regione toscana. No, gli altri può essere anche il Comune, ma io lo dico per tutti i due comuni, voglio dire non può Capolona decidere per subiano, subiano per Capolona. Gli altri, in terzi come il Comune comunque con cui andiamo a proporci di fondere. Questa mozione è andata però contro una decisione presa a livello regionale. Ma è solo un atto diciamo di Consiglio Comunale in cui si evidenzia secondo noi una mancanza in questa diciamo normativa regionale, quindi chiediamo che venga valutato, perché noi non lo riteniamo giusto insomma, ecco tutto qua. Perfetto.